Ben trovati amici di Studio Mattina, oggi martedì sempre insieme, tanti temi, tanta attualità, ma come ogni martedì iniziamo parlando di economia, l'economia del nostro paese e soprattutto del nostro territorio, con il professor Gianni Lepre. Buongiorno! Salve, un saluto particolare a chi ci ascolta. Ben trovato, ma insieme abbiamo un ospite stamattina, l'onorevole Galeazzo Bignami della Commissione Finanza e Semplificazione Camera dei Deputati. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, onorevole, io partirei proprio da lei. Insomma, tra il Covid e la guerra, il nostro paese ha sicuramente avuto dei grandissimi danni economici. Che cosa si può fare per le famiglie italiane? Intanto viene a precisare che la guerra ha aggravato una situazione di criticità, non ha evidentemente sostituito la ragione scatenante dei pessimi risultati che il governo sta realizzando sul piano economico. Ricordiamo che già prima dello scopo del conflitto il Fondo Monetario Internazionale aveva rivisto a ribasso le stime di crescita dell'Italia proprio per l'assenza di politiche che fossero serie da un punto di vista di tenuta del rimbalzo che si era registrato. Giusto per ricordare, il calo del PIL durante il periodo del pandemico è stato il 9%, l'Italia ha recuperato il 6,5% circa e purtroppo quest'anno non abbiamo saputo recuperare il gap residuo. La guerra ha inevitabilmente acuito questo dato che però va anche sommato al fatto che quando il governo Draghi si insediò il famoso spread viaggiava intorno a 80 punti base, a un anno esatto dal suo insediamento, quindi anche qui prima della guerra era praticamente raddoppiato. Questo lo diciamo non perché crediamo che lo spread sia un indicatore particolarmente significativo, ma vale la pena rammentare che nel 2011 fecero un circo indecoroso per giustificare sulla base di questo dato l'accaduto del governo Berlusconi e potremmo proseguire a lungo. Questo è necessario perché diversamente affidiamo alla termine del conflitto la possibilità di una ripresa anche dell'economia familiare, non è così. Fratelli d'Italia già dall'inverno del 2020, quindi non sto sbagliando anni, aveva denunciato il rischio di una crisi energetica e siamo rimasti inascoltati e oggi provare a rimediare pagando con i soldi dei contribuenti, le bollette dei contribuenti ci pare francamente una mera partita di giro. Quello che serve è una sterzata importante soprattutto a livello comunitario perché tutte queste misure che stanno colpendo inevitabilmente l'economia italiana devono essere, visto che sono attuate in un quadro di alleanza con gli Stati Uniti e di rapporti comunitari, devono essere mitigati da interventi degli Stati Uniti che stanno vendendo il gas, l'NGL a caro prezzo e dalla comunità europea che deve prendere atto del fatto che l'Italia è tra le economie più colpite dalle sanzioni e non solo. Gianni, prego. Indubbiamente non posso che essere d'accordo con l'Onorevole Bignami, tra le altre cose le problematiche sono tante, noi dobbiamo parlare sì delle famiglie i cui costi si sono aggravati per il 2022 di circa 2.500 euro all'anno e questo ovviamente in modo particolare per le famiglie meno ambienti è un dato significativo, importante, quindi c'è bisogno di interventi istituzionali proprio per aiutare le famiglie, ma non solo. Noi dobbiamo parlare anche delle imprese, molte imprese purtroppo se non si prendono provvedimenti seri, concreti a loro favore saranno costrette a chiudere e questo ovviamente non significherà soltanto incidere per quanto concerne il piccolo imprenditore, ma questo significa aumentare di gran lunga la nostra disoccupazione che già come sappiamo è alta, noi rammentiamo, siamo a oltre il 10%, siamo ad una disoccupazione giovanile del 30%, quella femminile del 50%, quindi noi rischiamo che in effetti ci può essere un impoverimento ancora maggiore delle nostre famiglie, delle nostre imprese e diciamo il tutto potrebbe costare molto di più rispetto agli aiuti che il governo deve necessariamente fare nell'immediatezza perché il tutto poi andrebbe a incidere molto sul sociale e quindi con un aumento dei costi addirittura direi in modo notevole, poi per non parlare che ci sarà tanta disoccupazione da erogare, tante persone che andranno a chiedere il reddito di cittadinanza, un'altra dal mio punto di vista piaga italiana perché come detto noi il reddito di cittadinanza lo possiamo prendere in considerazione per quelle fasce che non sono più occupabili, ma il giovane di 25-30 anni bisogna trovare una soluzione, cioè dare il contributo direttamente all'impresa che assume. Mi porto a proposito di questo un'idea che spesso il professor Lepre ha ribadito nei nostri studi, quella di convertire il reddito di cittadinanza per le persone occupabili in un sostegno alle imprese per generare nuovi posti di lavoro, quindi con la stessa diciamo cifra generare un posto di lavoro, con la stessa cifra di un reddito di cittadinanza. Le sembra una delle possibili soluzioni? Dirò di più, alla convention di Milano Fratelli Italia ha detto esattamente questo, perché se noi consideriamo che il reddito di cittadinanza quota 8,8 miliardi di Euro e un taglio efficace del cuneo fiscale può essere realizzato con 9 miliardi di Euro, non ci vuole un economista per comprendere la sovrapponibilità delle misure. A questo noi abbiamo anche, e sempre anche in piena coerenza con quello che diceva il professor Lepre, che ho ascoltato con grande attenzione e anche soddisfazione, abbiamo come Fratelli Italia lanciato la proposta del più assumi meno paghi, perché riteniamo che invece che una sinistra che esorge una funzione di ridistribuzione del reddito, che potrebbe anche essere giusta, ma in realtà questa sinistra non è che toglie a chi più ha per dare a chi meno ha, toglie a chi più ha per dare a chi meno fa, e noi questo non possiamo condividerlo, perché noi riteniamo che chi più fa deve essere premiato dallo Stato, e quindi chi garantisce lavoro, occupazione, crescita economica deve essere premiato, penso che chiunque sappia che lo welfare state, gli stipendi, anche il reddito di cittadinanza non vengono pagate con le risorse della Boldrini, vengono pagate dalle nostre aziende che versando le tasse generano ricchezza e garantiscono la tenuta del sistema sociale. Devo aggiungere una cosa, anche gli amanti del reddito di cittadinanza dovrebbero tenere da conto che la quota di 780 Euro, quando una bolletta raddoppia, quando la spesa triplica e quando il potere acquisto si dimezza, non bastano più, e quindi invece che attaccarsi a un reddito di cittadinanza, che è evidentemente una misura emergenziale, che dovrebbe accompagnare in una fase del tutto contingente una situazione di difficoltà giusta, perché lo Stato non deve abbandonare nessuno, però poi alla fine si dimostra insufficiente. Fratelli Italia ritiene che si debba garantire la dignità del lavoro e questo è compito dello Stato, garantire opportunità di lavoro a tutti. Anche perché, ricordiamolo, si potrebbero al contempo risolvere il problema della disoccupazione che diventa anche una piaga sociale in termini di intenti, in termini di giovani che non intraprendono carriere, in termini di giovani che poi vediamo a spasso nelle nostre città, potrebbe essere un aiuto, soprattutto per le medie e piccole imprese che fanno una fatica enorme ad assumere, chiaramente con quelli che sono i costi, per gli artigiani, come diciamo sempre Gianni, che potrebbero avere degli apprendisti. Prego. Noi lo diciamo spesso, in effetti, tra le altre cose, per quanto concerne il nostro artigianato di eccellenza, quindi il vanto nel mondo del nostro made in Italy, dobbiamo dire che ci sono delle difficoltà nel cambio generazionale, quindi perché? Perché assumere a bottega un apprendista significa pagare a questo giovane che appena entra in bottega, intorno agli 850 euro, e tra le altre cose poi ci deve essere qualcuno all'interno dell'azienda, o il titolare stesso, o un lavoratore che insegna a questo giovane il mestiere, quindi non soltanto quello non produce perché non conosce neanche quali sono i ferri del mestiere, ma addirittura poi ci deve essere qualcuno pagato dall'azienda stessa che ci perde del tempo. Per cui, parlando e ritornando al problema del reddito di cittadinanza, anziché dare ad un giovane un reddito per farlo stare a casa e quindi inculcargli, tra le altre cose, la cultura del non lavoro, della non dignità, per usare lo stesso termine che ha usato l'onorevole, quindi noi diamo l'opportunità del cambio generazionale nell'artigianato di eccellenza, ma non solo, tra le altre cose, quindi perché bisognerebbe adottarla per tutti gli apprendisti che vanno a bottega o a negozio, ma soprattutto, come devo dire, il giovane deve capire che per monetizzare, non mi veniva il termine, deve lavorare e non deve aspettare e anche un modo di educare le nuove generazioni al lavoro, per non parlare poi del corollario che comunque si genera anche lavoro a nero, no? No, noi parliamo perché ovviamente molte persone sono praticamente non predisposte, perché prendono il reddito di cittadinanza, non predisposte al lavoro e questo lo posso testimoniare chiaramente la garanzia del contratto, perché parecchie delle aziende che assisto dal punto di vista professionale stanno incorrendo proprio in questa problematica. Onorevole, un altro argomento importante è il PNRR, secondo lei lo stanno utilizzando bene, lei come interverrebbe? Intanto mi permette di dire che piena sintonia con quello che dice il professor Lepre, anche perché oggi chi si accontenta del reddito di cittadinanza in realtà sta compromettendo il proprio futuro, perché se accetta di lavorare in nero di fatto non vede versato nulla per quando un domani magari dovrà avere una pensione, oltre che per sé anche per i propri figli o per i propri nipoti, purtroppo in questi anni noi vediamo che spesso e volentieri le giovani coppie, anche i giovani non accoppiate, ma i single devono vivere con l'aiuto delle famiglie, quindi chi oggi pensa di campare con il reddito di cittadinanza in realtà si sta compromettendo il futuro, perché ogni giorno in cui tu percepisci il reddito di cittadinanza è un giorno in meno in cui tu puoi versare dei contributi ed è quindi un giorno in meno di remunerazione per il futuro che puoi anche utilizzare per assistere i tuoi familiari. E quindi più che manna dal cielo, che ho compreso evidentemente il significato con quello che ha detto il professor Lepo, qui è una elemosina di Stato che in realtà è finalizzata a tenere tutti schiavi, credo che nessuno possa pensare di aspirare alla felicità e al benessere con 780 Euro nella migliore delle ipotesi. Sul PNRR non mi voglio sottrarre, è evidente che è uno strumento che sta dimostrando una certa inadeguatezza, pari il fatto che proprio a Napoli questi fondi vengono anche utilizzati per scopi impropri e la notizia che vengono impiegati 15 milioni di Euro per la strutturazione del centro sociale giovanile utile ai nipotini dei radical chic che poi dopo vanno a divertirsi sfondando vetrini in giro, credo che dimostri come l'impiego non sia proprio quello corretto. Noi riteniamo che tutti i soldi fino all'ultimo centesimo debbano essere spesi per creare infrastrutture, per ridurre il gap tra l'Italia e l'Europa e anche tra parti stesse di Italia. In questo però bisogna anche essere chiari, il PNRR nasce come uno strumento pensato e concepito in un momento in cui non c'era quella crisi energetica che c'è, che solo in Italia è stata derubricata a caro bollette. Io inviterei il Presidente Draghi che dice di spegnere i condizionatori, di andare a visitare qualche industria del settore la ceramica, della vetreria, delle carterie, delle acciaierie e vedere se il problema è spegnere i condizionatori. Il problema qui è che si spengono i forni, noi siamo al paradosso che le aziende italiane hanno troppe ordinativi e lavorano praticamente in perdita, che significa che con questa crisi energetica i costi della realizzazione delle opere del PNRR, pensiamo banalmente ai binari di una ferrovia fatta in acciaio o alle materie prime impiegate sul Frecciarossa, legno di betulla russo, il che evidentemente richiama già qualcosa. Cosa comporta? Ciò che con i 191 miliardi oggi ci fa il 30% di cose in meno. Immaginiamo un'azienda che partecipa a un bando e non è più nelle condizioni a fronte dei capitolati speciali e delle somme predisposte a quel bando di comprare le materie prime e di pagare le spese energetiche. Cosa fa? Evidentemente pianta lì il cantiere e apre un contenzioso, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore invece il bando va deserto, il che significa che il PNRR deve essere rinegoziato. Perfetto. Onorevole, prima di salutarla, come vede il futuro dell'Italia? Una domanda difficile, però è proprio da voi che ci aspettiamo qualche speranza. Il futuro dell'Italia è nelle mani degli italiani, dipende cosa gli italiani intendono fare, è chiaro che se gli italiani continuano a compiere scelte un po' singolari, il futuro è quello che assomiglia più probabilmente al presente, questo lo dico perché il Parlamento di incompetenti che oggi popola la Camera e il Senato, non è che si sia trovato lì per caso, è stato scelto dal 30% di italiani che ha mandato gente incapace, incompetente, impreparata a tenere in piedi una nazione. A noi fa un po' sorridere e francamente non lo riteniamo neanche offensivo quando sentiamo certa stampa che dice Fratelli d'Italia non ha una classe dirigente, perché è classe dirigente di Maio, è classe dirigente Speranza, è classe dirigente questa gente qua, insomma dai non prendiamoci in giro. È evidente che quindi se gli italiani opereranno delle scelte chiare e precise, Fratelli d'Italia ci vuole più competenza, onorevole, più competenza sicuramente. Io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, le auguro un buon lavoro, grazie onorevole Bignami e buona giornata. Gianni, noi dobbiamo salutarci, ho letto la tua intervista su Panorama, sui pagamenti digitali, non so Gianni ovunque, un giorno qui, un giorno lì, insomma però martedì torni qui da noi. Sicuramente. E allora a martedì prossimo con Gianni Lepre per parlare di economia e ora ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti.